Amministrazione Melucci, Sindaco Melucci, dovreste solo vergognarvi e scappare di notte da Taranto. Questa è la Taranto che voi amministrate. Le vasche della concattedrale sono l'immagine della vostra incapacità amministrativa, del vostro essere nulli, ma non solo, anche dannosi. Questo sarebbe l'ecosistema Taranto, questa sarebbe la Taranto che ha dato una svolta. Lo dico a te, Sindaco Melucci, e lo dico anche ai consiglieri di maggioranza, oltre che alla Giunta. Questa è la svolta? Questa è l'ennesima volta che vengo qui. Saranno almeno una decina di volte. Ma oggi davvero abbiamo toccato il fondo, perché la condizione qui, neanche nei paesi sottosviluppati, nei paesi proprio precipitati, si vivono queste situazioni. Qui deve intervenire la ASL, il Dipartimento di Prevenzione della ASL, perché non è possibile. Qui si rischiano infezioni, qui si rischia veramente, non so quali tipi di malattie si possono contrarre. È mai possibile una situazione del genere? Ma voi avete ancora il coraggio di parlare di turismo? Melucci, tu hai il cazzo di coraggio di parlare di ecosistema Taranto. Questo è l'ecosistema Taranto, questa è la Taranto Green, questo è il porcile. Tu sei un incapace politico-amministrativo, tu devi sparire politicamente da Taranto. Tu e tutta la tua corte dei miracoli. Guardate, io non posso tollerare che una città viva in queste condizioni. Non posso tollerare, ma oltre allo scempio che c'è e che vedete sotto i vostri occhi, questi signori hanno pure il coraggio di sciacquarsi la bocca, di vantarsi, di parlare di una rinascita di Taranto. Stiamo seminando la rinascita, state seminando la rinascita della merda, anzi la permanenza della merda. Il meglio viene ora, ecco il meglio che viene ora. Se poi per i cittadini va bene, non penso proprio, allora sì, questo è il meglio. Ma stiamo scherzando? Le vasche della concattedrale, un'opera architettonica, quella di Gioponti, che è nota in tutto il mondo e deve essere stuprata in questo modo. stuprata, non c'è altro da dire, è una vergogna, in nessuna parte d'Italia si arriva a questo. Posso capire il degrado, l'invivibilità urbana, la mancanza di decoro, tante cosette posso anche accettarle, posso anche chiudere gli occhi, ma questo è un pugno in faccia, un pugno in faccia. E la cosa grave è che sono state fatte da parte mia e da parte di altri decine, decine, decine di segnalazioni, per tutta risposta, il nulla. Ed è ovvio poi che lo schifo, la melma, la merda, è chiaro che si aumenta, 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 non intervieni, passano le settimane, passano i mesi, ditemi voi. Allora, quando Melucci parla di ecosistema Taranto, gli devo prendere le immagini e gliele devo sbattere in faccia e dire guarda un po', credetemi, un'amministrazione così fallimentare non l'ho mai vista, mai vista e forse non l'hanno vista neanche i tarantini. Melucci, ma abbi la dignità politica, ma anche umana, di dimetterti, leva il disturbo, liberaci da questo incubo, per favore liberaci. Grazie a tutti.